Ciao, sono Marco e nel video di oggi ti parlerò di come creare le FAQ in Wordpress. In alcuni video presenti sul mio canale, che ti consiglio di andare a vedere, abbiamo già un pochettino affrontato del perché e del per come vadano create le FAQ e vadano messe all'interno del proprio sito e soprattutto perché possono dare una mano. Molto semplicemente qualsiasi tipo di prodotto o servizio tu stia vendendo sul tuo sito senza necessariamente avere un e-commerce, quindi sia che tu abbia un e-commerce e sia no, spesso appunto puoi incappare in domande da parte degli utenti e se gli utenti con una certa regolarità ti fanno lo stesso tipo di domanda potresti iniziare quindi a pensare di creare appunto delle FAQ, quindi le famose Frequently Asked Questions, quindi le domande che vengono più comuni a cui è già possibile rispondere. Quindi appunto come abbiamo detto creare queste FAQ ti può consentire a te di risparmiare un bel po' di tempo, quindi decisamente un tempo ben risparmiato e soprattutto fornire ai tuoi utenti delle informazioni in più su quelle che appunto magari sono le obiezioni di base, sono le domande di base, quelle che vengono appunto chieste più volte e che vengono richieste appunto maggiormente. Andiamo quindi a un pochettino oggi a vedere dal lato pratico come è possibile andare a creare appunto delle FAQ. Allora in primis, come ho già detto in una marea di video presenti sul mio canale, una delle soluzioni più diciamo pratiche, veloci è quella appunto di utilizzare dei plugin, quindi utilizzare plugin, ci sono plugin che ti consentono di realizzare appunto delle FAQ, la maggior parte di questi, non te ne consiglierò uno in particolare, quindi quest'oggi appunto il consiglio è di provarli e valutarli tu e vedere tu qual è il plugin che si adatta più a te. Comunque la grande, la maggior parte dei plugin che aiutano a realizzare le FAQ ti andranno a costruire, ti daranno magari degli accordion o delle pagine con magari appunto un menu di navigazione dove c'è delle ancore dove ci sono magari tutte le domande all'inizio e in fondo la pagina appunto le ancore che vanno ad ogni singola risposta per quella domanda o come ho già detto poco fa appunto gli accordion, quindi quei menu a espansione che quando tu clicchi si aprono e all'interno magari hanno la loro risposta. Altre soluzioni che ti posso consigliare, però sono più esigenze specifiche, sono altri tipi di plugin che consentono di creare delle FAQ un po' più particolari. Voglio farti un esempio, tu potresti creare una pagina di domande e risposte frequenti all'interno del tuo sito, quindi metterla magari nel menu di navigazione ed è una pagina generica con appunto domande e risposte generiche per tutto il sito, quindi per tutti i tuoi prodotti o servizi, oppure magari hai l'esigenza particolare, quindi un'esigenza più specifica, di andare a creare delle domande e risposte frequenti per magari ogni singolo prodotto. Addirittura quindi qui abbiamo dei plugin che ci vengono in aiuto che ci consentono per esempio di andare a creare delle domande e risposte, quindi delle FAQ all'interno per esempio delle tab di un singolo prodotto di WooCommerce, quindi un'esigenza qua assai più specifica, però appunto a seconda di quella che ha la tua esigenza puoi trovare il plugin che più si adatta appunto a te e alle tue specifiche. L'ultimo consiglio di oggi, l'ultima informazione che ti voglio dare oggi è che oggi, grazie appunto all'avvento di Gutenberg e quindi all'editor a blocchi che riguarda appunto WordPress, volendo hai la possibilità di andare a creare una pagina appunto delle FAQ anche semplicemente appunto creando dei blocchi all'interno di una pagina statica e quindi senza necessità di plugin, senza necessità di aggiungere altre cose, senza necessità di mettere mano al codice e questa diciamo è quella che è la soluzione che potrebbe essere più snella e più pratica. Non dimentichiamoci, anche di questo ne ho parlato parecchie volte in miei video, quindi ti consiglio anche qui di andarti a fare un po' un giro nel mio canale e a vedere un po' di che cosa ho parlato. Ricordiamoci sempre che nel momento in cui stiamo strutturando un sito WordPress il consiglio è sempre quello di non appesantirlo troppo con miliardi e miliardi di plugin. I plugin ci forniscono una soluzione praticamente a tutto, però non possiamo andarci a letteralmente a seppellire di plugin perché otterremo assolutamente rallentamenti del sito, rallentamenti e rincaricamenti delle pagine e quant'altro che appunto ho già approfondito in altri video e non voglio stare a ripetere in questo video qua. Quindi appunto valuta tu in base appunto a quelle che sono le tue esigenze e le tue specifiche se puoi fare a meno di utilizzare un plugin e creare una semplice pagina con appunto l'editor a blocchi. Bene, io spero che questo video di oggi ti sia tornato utile e se c'è qualcosa che comunque non ti è chiaro e qualche dubbio o qualcosa che vuoi chiedermi lasciamelo scritto qua sotto nelle domande che sarò lieto appunto di risponderti e in ogni caso se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!